Allora, il tema che mi è stato affidato, l'individuo e l'assoluto, di per sé si pone come una dualità tra l'individuo inteso come singolo che spera di poter vivere, sopravvivere o vivere bene nella sua individualità, nella sua singolarità, pensando di poter essere autonomo, autarchico e indipendente dagli altri o comunque da ciò che lo circonda. E dall'altro l'assoluto, inteso in che modo? Si può intendere in tanti modi l'assoluto. L'assoluto significa ciò che è sciolto da qualunque relazione e quindi è in qualche modo tutto, perché se ci fosse qualcos'altro oltre all'assoluto in qualche modo sarebbe in relazione con esso non sarebbe più l'assoluto. Per cui per pensare l'assoluto dobbiamo per forza immaginarlo, pensarlo, considerarlo come la totalità, come l'intero, come l'uno, l'unità del tutto, come l'uno tutto, come ciò che include tutti i molti. E allora una prima battuta è che l'individuo è parte dell'assoluto, una prima idea è che non esiste alcun individuo che sia separato dall'assoluto, perché l'assoluto per definizione include tutto. Per cui il problema non è tanto da porre nel senso di una contrapposizione tra l'individuo e l'assoluto, con tutte le conseguenze etiche, politiche, sociali che da queste due parole si possono dedurre, l'individualismo è l'assolutismo che entrambe politicamente sembrano essere negative e portare in qualche modo a degenerazioni dal punto di vista del nostro vivere insieme. E allora la prima idea che mi è venuta è che in fondo noi immaginiamo la nostra cultura sia attuale sia storicamente distribuita come una sorta di polarità tra un modo di vedere il mondo orientale, quello della sapienza orientale che è più mistica, ovviamente mi riferisco a tradizioni antiche dell'induismo, del buddismo, ma anche in generale al modo in cui un certo approccio orientale guarda alla vita, anche alla medicina cinese eccetera, un approccio chiamiamolo olistico, dove si guarda appunto all'intero. E invece un mondo chiamiamolo occidentale che per certi versi è figlio della filosofia greca, è figlio della scienza moderna e poi naturalmente noi lo viviamo sotto nell'era della tecnica, della tecnologia, dove la tecnica è figlia della scienza, la scienza è figlia della filosofia, ebbene questo mondo è invece più orientato verso la particolarità, verso la frammentazione, quindi verso gli individui, più che l'individuo dovremmo dire gli individui, verso i molti, verso i molti individui e verso le molte pratiche che potrebbero apparirci come irrelate o scordinate o non diciamo armonizzate le une con le altre, quindi per certi versi anche caotiche. Da un lato quindi l'approccio orientale, chiamiamolo l'approccio sapienziale, porta a che cosa? Al riequilibrare lo squilibrio, cioè se è vero che noi ci dobbiamo porre nell'armonia del tutto, allora l'unico atteggiamento buono, etico possibile per il singolo è quello di considerarsi appunto parte di questo tutto, trovare la propria collocazione nel mondo, nel cosmo, in questa armonia, se c'è, e in qualche modo annullare tutte quelle tendenze egoistiche, volontaristiche, di appropriazione egoistiche che portano all'infelicità. Quasi tutte le pratiche religiose delle spiritualità orientali puntano a questo, puntano a un annullamento dell'io, o comunque a una sospensione di tutte quelle passioni egoiche che portano solo turbamenti, infelicità, attaccamento alla propria individualità esasperata, mentre quella che Schopenhauer chiamava la noluntas, cioè l'annullamento della volontà, proprio pensando a questo approccio orientale, è l'unica via per, quantomeno per l'annullamento dell'infelicità, per l'annullamento del dolore, non dico per la felicità, ma sicuramente per la sospensione della sofferenza che nel mondo c'è. Viceversa, nel mondo occidentale tutto proteso verso la tecnica è mosso dalla volontà di potenza, direbbe Nietzsche, ma già Sant'Agostino parlava di libido dominandi, cioè di passione per il dominio, che è appunto una specie di amore, di volontà per il potere, per il dominio, quindi per l'autoaffermazione, per l'autorealizzazione, per il soggiogare gli altri, dove paradossalmente la stessa idea dell'individualismo, quindi dell'egoismo, non si realizza nella singolarità, cioè nell'isolamento dell'io, ma nell'assoggettamento degli altri a sé. Per cui è pur sempre una forma di relazione dove però il timbro è quello del dominio, quello dell'amor sui, termini anche psicanalitici potremmo dire della libido e della volontà di potenza, che naturalmente sia individuale, ma può essere collettiva di un gruppo sociale, può essere nazionale di una nazione o della civiltà in generale, della civiltà della tecnica in generale che in questo caso tende ad assoggettare il pianeta, distruggendone le risorse. E quindi è anche chiaro che questo discorso si può articolare in tanti modi, nei rapporti tra l'individuo e gli altri, nei rapporti tra l'Oriente e l'Occidente, nei rapporti tra gruppi umani, antropici e altri, nel rapporto tra l'uomo, inteso appunto l'individuo e l'uomo in generale, e l'ambiente. Allora, ho scelto di toccare un po' tutti questi temi, in maniera molto rapsodica e anche forse disordinata, però partendo dalla filosofia greca, che un po' è il tema di cui sono più esperto, di cui mi occupo, che però ci consente, come spesso accade quando si tratta della storia della nostra civiltà, ci consente uno sguardo che affondando nelle radici, nelle radici del pensiero, poi in qualche modo apre orizzonti anche per l'attualità, per il presente e per il futuro. E allora, se noi volessimo immaginare due autori antichi, presocratici, che possono essere eletti a campioni, l'uno dell'individuo e l'altro dell'assoluto, mi vengono in mente Democrito, l'eucippe Democrito, cioè i fondatori dell'atomismo, atomos in greco significa individuo, atomos significa ciò che non si può dividere, individum significa appunto ciò che è indivisibile, o meglio, noi siamo individui nel senso che se veniamo divisi perdiamo la nostra indice, si muore se veniamo tagliati a metà. L'atomo fisicamente inteso è indivisibile, individum, perché non lo puoi neanche dividere, cioè la particella ultima della materia che non si può tagliare più in due. Da un lato il fondatore dell'atomismo, l'eucippo e il suo allievo Democrito, e dall'altro invece Parmenide, che tra i filosofi occidentali, immagino che non vi abbia sentito parlare, è colui che ha in un certo senso annullato ogni individualità in un uno tutto, in un essere onnicomprensivo, che lui immaginava come una sfera, come una grande sfera, come una grande palla cosmica, dove tutto è costante, dove tutto è omogeneo, dove tutto è immobile e dove le manifestazioni, diciamo, della nascita, della crescita, della morte, della molteplicità, sono solo increspature, sono come le increspature sulle onde del mare, c'è qualcosa che appare come individuale, ma in realtà è semplicemente una modifica, un'affezione di un essere che è uno, appunto assoluto, perché c'è solo questo, costante, una ben rotonda sfera, dice Parmenide nel suo poema sulla natura, una sfera che lui aveva pensato come finita, cioè come chiusa in se stessa, ma che volendo si può pensare anche, e di fatto molti pensatori nell'umanesimo, nel rinascimento italiano lo hanno pensato così, come una sfera infinita, una sfera infinita in cui non c'è alcun centro, o meglio ogni punto è centro e dove non c'è la circonferenza, cioè è una sfera infinita con il centro ovunque e la circonferenza in nessun luogo, quindi il centro ubique e la circonferenza nullibi, così si esprime Cusano e sulla sua scorta anche Marsilio Ficino. Naturalmente quando pensano a questo assoluto inteso come sfera infinita, hanno in mente soprattutto la natura di Dio, il Dio è così, Dio, chiamiamolo Dio, chiamiamolo essere, chiamiamolo uno, i nomi poi sono intercambiabili a seconda delle tradizioni in cui ci poniamo, possiamo chiamarlo natura, in senso spinoziano, Deus, Siva Natura, possiamo chiamarlo l'origine, possiamo chiamarlo la physis come facevano appunto Parmenide e gli altri autori. E allora da un lato abbiamo un modello di uno tutto, Parmenide, dall'altro abbiamo invece un modello sempre fisico, sempre della natura dove il mondo è composto da infiniti atomi, infiniti individui, infiniti individui intesi in senso fisico, che si giustappongono o si separano, si aggregano o si disgregano e in questo modo danno vita alla molteplicità e all'alternarsi delle cose. Dove la nascita, altro non è che è un aggregarsi di atomi e la morte è un disgregarsi dei medesimi che però permangono eterni. Quindi in qualche modo la sussistenza degli individui è la perennità, l'eternità di queste particelle fisiche piccolissime, minuscole e la nostra vita in quanto individui è semplicemente transeunte in quanto aggregazione e disgregazione, cioè in realtà non siamo noi gli individui, noi siamo invece divisibili, cioè la nostra vita è un frammento di un'eternità continua in cui gli atomi si compongono e si scompongono in maniera indefinita. Quello che volevo però farvi notare in questa separazione del principio filosofico dell'individuo, cioè l'atomismo democriteo e del principio filosofico dell'assoluto, quindi l'essere di Parmenide, è che le due posizioni apparentemente contrapposte, apparentemente inconciliabili, in realtà sono figlie di uno stesso modo di ragionare. Addirittura potremmo anche dire che il pensiero atomistico, quantomeno quello di Leucippo che era di Samo e di Samo era anche Melisso, Melisso di Samo allievo di Parmenide, appunto potremmo dire che l'atomismo altro non è che una evoluzione più elaborata, una rielaborazione dello stesso pensiero parmenideo, del pensiero eleatico parmenidera di questa città del sud Italia, appunto che si chiama Elea, appunto si dice eleatismo dalla città di Elea. In che senso? Allora Parmenide aveva immaginato l'assoluto come l'uno essere, unico, immobile ed eterno, al di fuori del quale non c'è nulla, per cui la contrapposizione assoluta tra essere e nulla si risolve nell'unicità di questo uno tutto di questa sfera e nell'annullamento o nell'irrilevanza o nella pura apparenza di tutto il resto, tutto il resto è semplicemente doxa, dice Parmenide, mera apparenza, mero fantasma, in realtà non ha alcuna sussistenza, noi stessi siamo una sorta di increspatura di questo assoluto e così come emergiamo poi ben presto ne veniamo riassorbiti, ma facciamo parte dell'assoluto, la nostra individualità non c'è, noi siamo parte dell'assoluto. Questo potrebbe anche essere, volendo, tranquillizzante, perché se siamo parte dell'assoluto anche noi siamo eterni, siamo parte di questo stesso assoluto, per cui non ci dovremmo tanto preoccupare della nostra esistenza concreta, semplicemente dobbiamo renderci consapevoli della nostra appartenenza all'essere e al tutto. Quello che però Democrito, prima Lucipo e poi Democrito fecero, fu quello di rendere, come dire, di mettere in movimento quest'idea dell'uno essere parmenideo che esclude il nulla, rendendo in qualche modo fisico e reale lo stesso nulla, pensandolo come spazio vuoto infinito. Parmenide nel poema dice il nulla, il non essere non è né pensabile né dicibile, quando il giovane allievo si presenta al cospetto della dea in termini mitologici che gli deve rivelare il contenuto della via della verità, gli dice il non essere il nulla, io ti proibisco di pensarlo e di dirlo, quindi del nulla non si deve parlare. Invece Lucippo e poi Democrito dicono il nulla, fanno esistere il nulla, appunto come spazio vuoto infinito, il nulla c'è, c'è il nulla ed è lo spazio vuoto infinito. E a questo punto, oltre a rendere, come dire, esistente, reale il nulla, pluralizzano e moltiplicano quell'essere di Parmenide che per gli eleati era unico. Lo pluralizzano appunto negli infiniti atomi. Ogni atomo, ogni individuo, ogni individuo ripete in sé, in piccolo, le caratteristiche di quella sfera di cui unica, immobile, eterna, di cui Parmenide parlava. Per cui ogni atomo è come una pallina, una pallina eterna, infinita, indistruttibile, ingenerata e indistruttibile, agenetos, cai aftartos, non è nata e non morirà, non si crea e non si distrugge. Semplicemente sono tante queste individualità, si muovono in un movimento caotico ed eterno nello spazio vuoto e muovendosi caoticamente si incontrano e si separano dando vita ai cosmi infinite, ai mondi infiniti nell'eternità del tempo, nella ciclicità del tempo. Tutto questo è un antico pensiero, un'antica filosofia, volendo molto razionale, anche se un po' ingenua, che però ha avuto una lunghissima storia, perché non è stata solo una posizione, diciamo, propria degli atomisti, è stata ripresa dagli epicurei. Epicuro riprese proprio questa idea dell'atomo e anzi vide nell'atomo fisico, nell'atomo fisico immobile, inquieto, eccetera, il modello dell'individuo umano in quanto tale che per essere felice deve assomigliare quanto più possibile a quell'atomo, cioè deve evitare i turbamenti, deve evitare gli scossoni, deve raggiungere quella che Epicuro chiamava la atarassia, che significa la mancanza di tarache, tarache significa proprio movimento, turbamento, perché ovviamente il movimento scuote, mette in pericolo quell'aggregato di atomi che è il nostro corpo, per essere, come dire, per vivere quanto più a lungo possibile in quiete, in tranquillità, in serenità, noi dobbiamo evitare quanto più possibile gli urti, gli urti dall'esterno, cioè mantenere questa sorta di quiete atarattica, imperturbabile che è la tranquillità dell'anima, la serenità. E allora, quindi i due modelli in realtà non sono così contrapposti l'uno all'altro, quanto bisogna ammettere che il modello atomistico, che vuole spiegare in questo modo la nascita del cosmo, è una sorta di evoluzione cosmologica di quel modello parmenideo. Eppure, questi due modelli poi vennero ripresi, rielaborati dai filosofi successivi in direzioni molto diverse l'una dall'altra. In particolare, quella tradizione spirituale che fa riferimento a Platone, filosofico-spirituale che fa riferimento a Platone, provò a sviluppare soprattutto l'idea parmenidea di un essere eterno, immutabile, di un assoluto, giustificando e salvando al contempo i fenomeni divenienti che altrimenti sarebbero consegnati al caos se non avessero un aggancio con questa sorta di assoluto pensato come uno tutto. Per cui il problema di Platone e di tutta la filosofia che da Platone è venuta fuori, perché il platonismo è una corrente di pensiero che è una specie di asse portante della nostra civiltà, sia della filosofia, sia delle religioni, varie esperienze spirituali, religiose, quella cristiana soprattutto, ma anche tante altre, si sono confrontate con le intuizioni platoniche che riconoscono in Platone una sorta di maestro, di maestro del pensiero, di maestro che ti dice la via verso questo uno tutto, ti dice il ruolo che tu come individuo devi avere per collocarti nella giusta posizione nel cosmo e quindi nell'universo. E allora Platone sviluppò una filosofia sia in campo logico-dialettico, sia in campo fisico-cosmologico e poi soprattutto in campo etico-politico, una filosofia è un modo di pensare dell'unità, si dice enologia, cioè una filosofia dell'unità, dove però questa unità non è un uno-uno, cioè un'unità assoluta che esclude i molti, ma è in qualche modo un'unità articolata all'interno della quale ogni ente, ogni cosa che c'è, ogni individuo che esiste, trova la sua ragione d'essere proprio nella sua relazione con l'uno, con il principio, senza smarrire però la sua individualità. O meglio, potrebbe trovare forse la sua definitiva collocazione nell'annullamento della propria individualità, ma quella individualità è data proprio dalla relazione che quell'individuo ha con l'assoluto, con l'uno tutto. Allora adesso proverò a entrare in qualche, ma toccando proprio tre punti in maniera molto veloce, alcuni punti un po' tecnici che possono spiegare meglio la differenza del modo di pensare di Platone rispetto per esempio a quello di Aristotele. Andiamoci dal punto di vista della logica, Platone avrebbe detto della dialettica, non tanto della logica, cioè proprio del modo di concepire l'individuo come identità rispetto a ogni possibile alterità. Mi riferisco a testi platonici come il sofista, il filebo o lo stesso Parmenide, un dialogo dedicato appunto a Parmenide di cui prima parlavamo. E allora Platone immagina che ogni individuo, quindi ogni cosa, ogni ente, ogni cosa che è, si costituisca non di per sé in quanto tale, ma sempre nelle relazioni che questo ente ha con tutto il resto, con tutti gli altri. Il famoso esempio del battito di una farfalla che determina una catastrofe da un'altra parte. Cioè non c'è nulla nel mondo che sia sciolto, appunto assoluto, absoluto significa sciolto, totalmente indipendente, totalmente separato dal resto. Noi siamo costituiti, potremmo dire, da un fascio di relazioni, soprattutto con ciò che c'è vicino, ma tramite ciò che c'è vicino con tutto il resto. E questo anzitutto dal punto di vista fisico, fisico direi, lo so direi, biologico. Noi viviamo perché respiriamo continuamente, per cui siamo in relazione continua con l'aria che ci circonda. Se fossimo presi e posti al di fuori dell'ambiente dell'aria, moriremmo all'istante. Ma tutto questo è evidente in tutto, cioè che la nostra vita si costituisce nella relazione, per cui non c'è una identità del singolo che sia totalmente autonoma, totalmente autarchica, cioè la relazione con l'altro, con gli altri, con gli altri intesi sia come altre persone, ma soprattutto anche come altre cose, come ambiente che ci circonda, è costitutiva della nostra stessa identità. Detto in greco, perché se il greco la tautotes, cioè l'identità di una cosa è sempre in relazione agli altri, pros allela, è in relazione alle altre cose. E allora non c'è l'individuo, o meglio, quell'individuo c'è proprio in quanto frutto di un intreccio di relazioni con tutto il resto. E questo Platone lo sviluppa in senso logico, dialettico, come ho detto, e poi come vedremo anche in senso fisico-cosmologico, soprattutto nel Timeo. Per converso potremmo subito dire che l'allievo di Platone, cioè Aristotele, sviluppa una logica simile e però contraria rispetto a questa della relazione, del pros allela. Vale a dire che immagina Aristotele nella sua metafisica, nella sua logica, nei suoi trattati di logica, che ogni, lui dice ogni usia, cioè ogni sostanza, ogni cosa che c'è, è anzitutto in sé, katautò, cioè è in sé, è ciò che è in sé, la sostanza, la sostanza vivente, una pianta, un animale, un essere umano, un pianeta, è anzitutto quello che è in sé. Dopodiché a questa sostanza si possono attribuire dei predicati, tra i quali c'è anche la relazione, pros ti, pros allo, pros al, ma è solo secondaria la relazione, rispetto, per esempio, la relazione padre-figlio. Per Aristotele è secondaria rispetto all'esistenza del padre. Il padre c'è in quanto tale, poi se per caso ha un figlio, allora instauna una relazione di paternità col figlio e il figlio prende su di sé quella relazione di filiazione o di figliolanza. Ma è primaria, come dire, la indipendenza, la individualità della sostanza, della usia, che per Aristotele è appunto il cuore di ogni essere, il cuore dell'essere. Esistono tante sostanze per Aristotele, lui non pensa la natura come un assoluto, la pensa appunto come un'articolazione di tante realtà molteplici che si muovono, che vivono, muoiono, eccetera, però ognuna, ogni sostanza ha la sua individualità. Per cui questo discorso per Aristotele è anzitutto logico, ma poi diventa anche ontologico e quindi cosmologico. Non so se è chiaro questo discorso. Allora, questo discorso logico, cioè del fatto che per Platone ogni cosa, quindi ogni individuo vive della relazione con tutti gli altri, è immediatamente tradotto in senso fisico, naturale, in senso cosmologico, nel Timeo, che è il dialogo dove Platone narra come è nato il cosmo. Platone, non so se vi è capitato di leggere questo testo, il Timeo è la versione greca, greca filosofica, della Genesi. Così come nel libro della Genesi si narra l'origine del mondo, il Dio creatore che fa tutto, gli animali, le piante, l'uomo, eccetera, in sette giorni. Nel Timeo Platone mette in bocca a questo pitagorico, Timeo di Locri, appunto una narrazione mitica, mitologica, lo dice un mito, un mito verosimile, dove in qualche modo si delinea la struttura e l'origine del cosmo. E allora quello che è interessante per vedere in che modo l'assoluto platonico, cioè l'uno tutto, è un'articolazione di molti tenuti insieme nell'unità, sono fondamentali due figure in qualche modo divine che vengono presentate nel Timeo come principi dell'unità del pensiero e dell'unità della vita. Queste due figure sono il demiurgo, demiurgo significa l'artigiano, il creatore, colui che fa il mondo diciamo a partire da una materia, da un materiale informe, appunto il demiurgo, principio del pensiero e dell'azione, è quella che Platone chiama psichetu cosmu, anima del mondo, anima undi diranno i latini, come principio unico della vita, fonte della vita, origine della vita. Provo a spiegare queste due figure, chiamiamole così, queste due figure Platone. Allora il demiurgo è certamente rappresentato come un dio, come un dio creatore, padre, padre e fattore di questo universo. Però quello che è interessante nel Timeo, ma soprattutto nelle interpretazioni neoplatoniche del Timeo, è che questo demiurgo è presentato come un pensiero, come un pensiero, come un nus, un nus, nus, noein in greco significa pensare, che pensa col suo atto di pensiero che è la noesis, la noesis noi tradurremmo l'impellezione, il pensare o l'intuire, la noesis l'intuizione, che pensa tutti i possibili contenuti. di pensiero, quelle che Platone chiama le idee. Quindi il demiurgo pensa, guarda, contempla, vede, squadernate di fronte a sé tutte le possibilità, tutte le idee. E ogni idea in qualche modo è in sé. È in sé e non è tutte le altre, cioè la relazione di ogni idea è quella essere identica a sé stessa e diversa da tutte le altre. Però nel pensiero del demiurgo c'è in qualche modo una unificazione di questo mondo intellegibile, che poi è il paradigma, il modello che gli servirà per costituire il mondo sensibile. Un po' come l'architetto o l'artista che prima di costruire una casa o di fare un quadro si fa un progetto mentale e quindi nell'unità del suo pensiero unifica in qualche modo tutte le articolazioni intellegibili, tutti i modelli che gli servono poi per la costruzione concreta. E allora qui abbiamo già un modello di unificazione intellegibile nel pensiero del creatore, dell'artefice, dell'artigiano, del demiurgo, di tutti quei modelli altrimenti irrelati, non mescolati, non intrecciati tra di loro, non tessuti diciamo. Il demiurgo nella sua mente fa come il tessitore, cioè comincia a tessere, a intrecciare orditi e trame per costituire il mondo e lo fa anzitutto a livello intellegibile. Allora nella ripresa neoplatonica, penso soprattutto a Plotino, a Proclo, ad autori che sono in qualche modo gli anelli di una catena aurea, la catena aurea dicevano, e crucesse ira, dicevano come tanti anelli di un'unica catena che da Pitagora è arrivata fino ai tardi neoplatoni. Allora questi autori vedevano nel nus, ipostasi, divina ipostasi, cioè pensiero divino, questa sorta di chiamiamola unimolteplicità, dove tutti i possibili molti stanno insieme come pensati nell'unità del pensiero divino, nell'unità del nus, che è in qualche modo assoluto proprio perché è un uno tutto, è un uno tutto che nel suo pensiero pensa tutto e quindi c'è un'appartenenza di tutti questi, chiamiamoli, noemata, cioè contenuti di pensiero, una coappartenenza nell'unità del pensiero, nell'unità del nus. Detti in altri termini, uso le espressioni che Plotino desume da Parmenide, essere e pensiero coincidono. Tautò, noem, caienai. La stessa cosa sono l'essere e il pensare, proprio perché il pensiero pensa tutto l'essere, questo pensiero divino. E allora traduce in termini, chiamiamoli intellegibili, teologici, quello che Parmenide aveva intuito nel suo poema cosmologico. Però questo è solo un primo modello di unità del tutto platonicamente intesa a livello intellegibile, perché poi c'è effettivamente il passaggio all'atto. Qui siamo nel mondo della possibilità ideale, un mondo di oggetti ideali, unificati in un pensiero divino. Dobbiamo passare alla realizzazione concreta, materiale, alla creazione vera e propria, che Platone nel timeo immagina proprio come l'atto di un artigiano che cala il suo progetto ideale nella materia, come il vasaio che ha questo suo modello, lo cala in un materiale di per sé in forme caotico, amorfola, la cora, questa sorta di brodo primordiale dove tutto è in qualche modo confuso. Allora c'è bisogno di portare ordine nel disordine. Questo è l'atto creativo del demiurgo, che mette in ordine questo materiale, ma soprattutto, e qui arrivo alla seconda figura che Platone delinea nel timeo, questo demiurgo dopo aver creato questo modello meccanico, come se fosse una macchina, una grande macchina, una grande sfera del cosmo, deve dare ad esso vita. E' come Geppetto, che fa Pinocchio, però finché un burattino non lo riconosce come figlio, deve in qualche modo vivificarlo, cioè dargli vita. O se volete, come il creatore della Bibbia che plasma Adamo dalla terra, però finché è un pazzo di terra, non di neve, di terra, non ha vita, deve a un certo punto, cosa fa il Dio? Gli insuffla, soffia, soffia l'opneuma, che noi traduciamo spirito, ma che è proprio il soffio, il soffio vitale. E allora il demiurgo fa qualcosa del genere non per l'uomo, ma per l'intero mondo, per l'intero cosmo, per l'intero universo, cioè insuffla dentro questo cosmo, che è una perfetta immagine del Dio, un principio vivificante, che è ciò che appunto denomina anima del cosmo. E' come se l'intero cosmo venisse vivificato, animato da questo soffio dell'anima, che è presentata come una sorta di figlia del demiurgo, una sorta di divinità figlia, se volete è in qualche modo la fonte della vita, di ogni possibile vita. E' come una radice, una rizza, radice, da cui poi si dipanano, da cui nascono e germogliano tutti i possibili rami, tutte le possibili foglie, tutti i possibili frutti, che altro non sono se non le possibili vite vegetali, animali, razionali del cosmo, che sono quindi tutte collegate, perché sono tutte ramificazioni di un unico tronco, di un'unica fonte, che è appunto questa anima del mondo, fonte della vita, l'albero della vita, potremmo dire così, da cui tutto ha origine. E questo poi si traduce per Platone in una concezione molto precisa della parentela di tutti i viventi, della affinità di tutti i viventi, che prende il nome di Syngeneia, Syngenese significa congenere, affine, cioè tutti i viventi sono congeneri, nel senso che hanno un unico, è uno stesso genus, un'unica radice della vita, le piante, ovviamente a vari livelli, ma tutti siamo in qualche modo imparentati, ovviamente secondo una gradazione della vita, della vita razionale, della vita animale, della vita vegetale, che in qualche modo degrada, ma è tutta collegata, tutta collegata e quindi noi possiamo dire tranquillamente di essere tutti affratellati nella comune umanità, che ci rende tutti partecipi del logos, della razionalità, ma poi partecipiamo con gli altri viventi, con gli animali, tutte le caratteristiche della vita sensibile e con le piante tutte le caratteristiche della vita vegetativa, la nascita, la nutrizione, l'accrescimento, la morte, l'inseminare, il fare sé, cioè sono elementi che poi anche Aristotele in qualche modo riprende, disarticolandoli nella sua teoria dell'anima tripartita, anima vegetativa per le piante, anima sensitiva per gli animali, anima razionale per gli esseri umani, dove però lo stesso Aristotele ammette che i gradi superiori di anima, di psiche, includono quelli inferiori, per cui noi siamo animali e siamo anche piante, in quanto compartecipiamo, siamo affini a tutte le caratteristiche sensibili e vitali di ogni vivente, di ogni zoon. La zoe, la vita, è appunto ciò che la psiche rende possibile. Allora, questo ovviamente si può declinare in tantissimi modi, però sicuramente da quest'idea platonica, cioè dell'anima universale che tiene insieme tutti i viventi, potremmo trarre tranquillamente un'etica non antropocentrica, ma cosmocentrica, cioè dove il centro è il cosmo, inteso appunto come ordine che dà la vita a tutti i viventi e quindi trovare poi la giusta collocazione di ognuno di noi all'interno di questa armonia del tutto. I platonici, e già prima dei platonici i pitagori, i pitagorici ne avevano tratta un'etica animalista, vegetariana, anche sulla base della credenza della trasmigrazione delle anime particolari, della metempsicosi, per cui questa comune origine delle anime nell'unica fonte della psiche fa sì che dopo la morte ogni anima possa trasmigrare in corpi di animali o di piante, per cui siamo tutti in qualche modo imparentati. E allora quantomeno bisogna evitare di uccidere gli animali che sono quelli che nel mondo della vita sono i nostri prossimi, quelli più vicini a noi dal punto di vista della costituzione fisica, ma anche nel mondo vegetale c'era soprattutto nel mondo pitagorico una rigorosa precettistica, si astenevano da determinati vegetali, per esempio dalle fave e tendenzialmente tendevano a rispettare anche il mondo vegetale per quanto è possibile naturalmente, anche nei vegetali noi possiamo fare uso alimentare di vegetali scegliendone alcuni piuttosto che altri, scegliendo la frutta piuttosto che le radici, perché se mangiamo le radici facciamo morire la pianta, se mangiamo il frutto chiaramente no, per cui anche lì ci sono, però appunto queste sono solo delle provocazioni che si possono lanciare perché appunto sono state lanciate, nel senso che proprio i platonici, mi riferisco a Plutarco, a Porfirio, su questa base elaborarono una giustificazione della pratica vegetariana, cioè del non mangiare carne, del rispetto del mondo animale, del non sfruttamento del mondo animale, anche per motivi etici, cioè di distacco della psiche dal corpo che però è un altro argomento. volevo arrivare alla questione propriamente etica e cioè che questa relazione di tutti con l'uno e quindi di tutti dei molti tra di loro poi si traduce in termini etici o se volete in termini valoriali in platone in tutte quelle forme di legame, logos significa anche legame, che rendono i molti uno o comunque una comunità. Ovviamente sono le varie forme dell'amore, amore, amicizia, ci sono giustizia, i nomi dell'amore, eros, amore, filia, amicizia, agape è il nome cristiano, evangelico cristiano per dire l'amore, ma anche dicaiosione, giustizia, sono tutti coinonia, comunità, sono tutti nomi che hanno alla base la medesima idea e cioè che il bene si raggiunga nella relazione di ciò che è diviso in modo tale che recuperi l'unità, la concordia, appunto la relazione. Questo anzitutto a livello fisico, Platone nel simposio per esempio immagina l'eros fisicamente inteso come una tendenza all'unità a partire da una divisione, da una dualità originaria. Non so se avete letto il mito dell'androgino che nel simposio è messo in bocca al comico Aristofano, in origine gli uomini erano doppi, poi sono stati divisi, tagliati in due e quindi l'amore è la tendenza a ritrovare quell'unità a partire dalla divisione originaria, a livello già fisico, per cui l'eros carnalmente inteso è la tendenza all'unità di due corpi, ma poi elevandoci di piano anche a livello psichico l'amicizia, la filia e l'unità di due anime e così a livello civico la giustizia e l'unità di un corpo sociale di cittadini, la giustizia intesa proprio come concordia e via dicendo, fino alla, nel simposio poi è una sacerdotessa orfica che esprime a Socrate questo insegnamento sulla scala dell'amore che parte appunto dall'amore fisico dei corpi per arrivare fino all'idea del bello in sé, che è una sorta di visione del bene, dell'uno tutto che si manifesta come bellezza, un po' come i raggi del sole che si espandono nell'oscurità, che è pur sempre una relazione della psiche che ritrova la sua unità con il suo stesso principio, quindi con quella fonte, con quell'origine, con quell'origine divina. E allora dal punto di vista etico, assiologico, erotico, politico, tutto il platonismo e potremmo dire tutte quelle forme di spiritualità, di religiosità, ci mettiamo dentro il cristianesimo, l'agnosi, tutte quelle forme che poi hanno attraversato il nostro occidente, parlano di questo, cioè del fatto che il rapporto dell'individuo con l'assoluto non è un annullamento dell'individuo, almeno in prima battuta, ma è anzitutto una relazione dell'individuo con gli altri e con il tutto per far sì che questa relazione articolata conduca sempre più, rivolga sempre più gli individui verso il centro. Per concludere vi dico come Plotino immagina questa sorta di relazione degli individui con l'assoluto. Lo immagina nell'ultimo trattato dell'Eneadi come un'orchestra, come un'orchestra dove c'è appunto il direttore d'orchestra e i tanti suonatori che hanno ognuno il proprio strumento. E allora se sono scoordinati e ognuno suona per sé, fregandosene di quello che fa gli altri, chiaramente viene fuori un gran frastuono e non c'è per niente l'armonia musicale. Ma se tutti si rivolgono in qualche modo al direttore d'orchestra, che è un po' figura dell'intelligenza demiurgica, al direttore d'orchestra che con la sua bacchetta armonizza e dà a ciascun membro, a ciascun componente del coro e dell'orchestra il giusto tono, allora ecco che si armonizzano, trovano la loro unità e quindi producono in qualche modo quell'armonia musicale che è un'immagine dell'assoluto stesso.